Buonasera, ben trovati alle TG Med Sport per Iachini in vista della sfida contro il Brescia di sabato pomeriggio alle 15 alle Barbera. Soltanto le defezioni che riguardano Morganella, Hernandez che però ha svolto una parte dell'allenamento insieme ai compagni e ovviamente Di Gennaro che invece si è sottoposto ancora alla cura dei fisioterapisti. Belotti aumenta il suo carico di lavoro, rientrerà anche l'Afferti dalla squalifica quindi non più emergenza in avanti per il tecnico del Palermo che potrà contare ovviamente almeno su tre attaccanti disponibili. Per il resto sarà il solito Palermo, la stessa formazione probabilmente ancora con i due esterni offensivi. Vedremo ancora un paio di giorni per Iachini prima di decidere. Iachini che parlerà comunque domani in vista ovviamente della sfida di sabato pomeriggio con invece un presidente Maurizio Zamparini che è tornato a parlare. Lo ha fatto attraverso le colonne del Corriere dello Sport, intervista rilasciata a Salvatore Geraci e proprio con Salvatore Geraci abbiamo commentato quelli che sono i progetti non soltanto per l'immediato futuro ma soprattutto in caso di una promozione in Serie A, secondo le parole del patron del Palermo. I rapporti sono di odio e amore nel senso che ogni tanto lui spara determinate situazioni o le riporto e poi magari nascono dei malintesi su quello che lui ha dichiarato come quando fu il discorso di Gattuso eccetera. Ma al di là di questo c'è un rispetto secondo me della professionalità per cui io questa volta l'ho intervistato senza volere per forza trovare la notizia, no? Cioè la frase gridata più che la notizia e devo dire che ho trovato un presidente completamente diverso, cioè molto attento, molto rigoroso, funzionale anche e preciso. E questo mi ha fatto un piacere incredibile perché è vero che lui dice io voglio restare ancora altri anni, cioè il Palermo resta altri anni in Serie A, voglio riaprire un ciclo che può essere una battuta, può essere vero, però sintetizza comunque quello che è la sua voglia. Ma poi fa una serie di passaggi che sono molto ma molto concreti e utili, cioè un Palermo che ha già una spina dorsale per cui deve comprare 5-6 pedine perché in Serie A deve avere un valore uguale alle squadre che hanno un certo target. e punterà ancora sui giovani perché non è possibile un altro tipo di operazione, cerca sempre degli investitori ma lui ha un piano, poi casomai la programmazione cambia attraverso la possibilità di mettere forze fresche in società. Cioè ma una serie di situazioni non urlate ma dette con garbo, con un garbo che ti dico mi ha fatto un po' impressione perché poi è da tanto tempo che lui non parla più come una volta. E che sia cambiato veramente Zamparini, insomma se è cambiato e se è quello che abbiamo visto ora può essere una garanzia, una grande carta per il futuro. Ma Iachini è l'allenatore per la Serie A del Palermo? Lui ha detto che con Iachini ha già aperto il discorso per la Serie A, cioè noi stiamo lavorando insieme per creare i presupposti per la Serie A, cioè per la squadra della Serie A. Quindi se uno dice una cosa del genere significa che già Iachini gli dice che ha bisogno di questo e loro stanno programmando e puntando su questo. Lo stesso discorso su Perinetti, Perinetti ha un contratto di scadenza, lui ha detto si lavora con estrema fiducia, i contratti scadono e si rinnovano al momento della scadenza. Non c'è nessun problema né con Perinetti né con gli altri, si debbano abituare sia i dirigenti che i giocatori e la prazzi è questa. Boscai ha invitato tutti a non drammatizzare più di tanto per la sconfitta interna contro il Siena, anzi ha lodato la maturità del pubblico di Trapani, standing ovation, nonostante la sconfitta per 2-0 contro la squadra di Beretta, tra l'altro dopo 14, i risultati utili consecutivi. A fare da eco al tecnico delle Trapani, l'attaccante, Antimo Junco. Dico proprio di sì perché stavamo togliendo quasi tutti i spazi allora, è vero sì che loro avevano un po' stesso palla ma era sterile, era finalizzato a Rosina e poi era quello che comunque riusciva a creare superiore della numerica. È normale prendere un gol così dopo che stavamo tenendo manco una squadra forte, prendere un gol così è normale che ti taglia subito le gambe. Però stiamo lavorando e dobbiamo lavorare perché quando accadono questi episodi dobbiamo aumentare la concentrazione, aumentare ancora qualcosa che fino adesso c'è stato e ci è venuto a mancare un po' meno in questa partita. Andiamo su trmweb.it, nella sezione sport del nostro sito, oltre al notiziario che riguarda il Palermo con le prove di schemi e tattica per Giuseppe Iachini, anche le notizie che riguardano il Catania con Spolli che ha lavorato a parte, ci farà di tutto comunque per esserci nella sfida contro il Sassuolo. Sfida che viene etichettata proprio dal centrale difensivo argentino del Catania come la possibile partita della svolta, anche perché ovviamente si gioca ultima contro penultima e dunque le remote possibilità di salvezza per il Catania. Invece parliamo di pallavolo, come vedete la notizia della B2 femminile con l'Andros Palermo che andrà a Castelvetrano sabato prossimo senza tre titolari. Ci sono ancora delle defezioni, una Andros per la quale ha parlato soltanto il tecnico Giancarlo Caccamo dopo la sconfitta per 3-1 in casa contro il Planet Pedara, sicuramente con un torto arbitrale importante subito dalla squadra palermitana che avrebbe forse potuto cambiare la storia della partita. Allora ascoltiamo le parole di Giancarlo Caccamo. Eravamo sotto di 6 o 7 punti, abbiamo fatto un parziale di 9 a 1, 9 a 2 e la partita è stata decida sul 24-23 da un fischio inopportuno dell'arbitro che ha fischiato una doppia che secondo me è inesistente. Però pazienza, il rammarico è tanto anche tra le ragazze perché comunque ci siamo battuti, abbiamo giocato un ottimo incontro nonostante i problemi avuti in settimana, vi ricordo che noi ieri non ci siamo allenati perché me ne mancavano 4-5. Siamo andati in campo, abbiamo dato tutto o quasi, sicuramente potevamo fare di più nei due set che abbiamo perso, sicuramente il terzo è stato un po' più di rammarico ma nel quarto set meritavamo sicuramente di vincerlo e così di guadagnare un meritatissimo punto e giocarcela poi al quinto set perché tanto un punto era dentro e per la nostra classifica era un toccasano. Vi ricordo che tutte le edizioni del TG Medesport le potrete rivedere sul sito trmweb.it Non ci sono altre notizie, grazie per essere stati con noi e arrivederci. Grazie per la visione!